La crisi di governo e il decreto di scioglimento delle Camere firmato ieri dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprono la strada alle elezioni anticipate fissate al 25 settembre, un periodo anomalo per una campagna elettorale che prenderà il via nel pieno dell'estate. Saranno le prime politiche che faranno i conti con il taglio dei parlamentari, i deputati scenderanno da 630 a 400, i senatori da 315 a 200. Una diminuzione che tocca ovviamente anche la circoscrizione Abruzzo. La nostra regione nelle politiche del 2018 ha espresso 21 parlamentari, 14 deputati e 7 senatori. Ora l'Abruzzo ne eleggerà 13, 9 deputati e 4 senatori. Una contrazione che renderà ancora più vehemente la lotta per spuntare nelle liste una posizione che garantisca o almeno renda plausibile una elezione a Montecitorio o a Palazzo Madama. Circa le candidature, un monito è arrivato nelle ultime ore dal consigliere regionale di Abruzzo in Comune, Sandro Mariani, il quale auspica che il presidente della regione, Marco Marsiglio, non scende in campo per queste elezioni politiche. Marsiglio è infatti uomo di spicco di Fratelli d'Italia e il partito di Giorgia Meloni, sondaggio alla mano, è uscito rafforzato da questo periodo trascorso all'opposizione del governo Draghi. Alcuni rumors lo vorrebbero in lista, in attesa che Marsiglio, il cui mandato di governatore a naturale scadenza nel 2024, prenda posizione in tal senso, va ricordato che per i presidenti di regione non c'è inelegibilità in Parlamento, bensì incompatibilità e in caso di elezione dovrà scegliere entro 30 giorni se entrare in Parlamento o restare in regione. Nel 2019 da senatore Marsiglio si dimise dopo l'elezione a presidente di regione. Ricordiamo anche che la precedente consigliatura in Abruzzo fu interrotta quando, al culmine di una vicenda che si dilungò fino alla pronuncia della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, Luciano D'Alfonso scelse il senato e rassegnò le dimissioni da presidente della regione nell'agosto del 2018, determinando il successivo scioglimento del Consiglio regionale. Intanto dopo la firma del decreto di ieri da parte del Capo dello Stato è iniziato il timing delle scadenze propedeutiche al voto. Entro il 12, 13 e 14 agosto i partiti dovranno depositare al Viminale i contrassegni e simboli elettorali. Il 21 e 22 agosto sono i giorni riservati alla presentazione delle liste e dei candidati negli uffici centrali elettorali costituiti presso le corti d'appello. Dal 26 agosto l'inizio della propaganda elettorale fino al giorno del voto, domenica 25 settembre. Entro il 15 ottobre la prima seduta delle due Camere del Parlamento.